l'ultima festa cosmo direttamente dalla dallo spring attitude esattamente dalla prima giornata giornata del 13 settembre che cos'è lo spring attitude come dire letteralmente l'ultima festa o meglio è un grandissimo festival a roma in da qualche anno anzi da tre anni questo è il terzo anno negli studios di cinecittà terzo anno posto veramente che si è trasformato io lo conoscevo per altre motivazioni anche i luoghi sono poco battuti non so se molte persone all'ascolto hanno già hanno mai visto che si possono visitare gli studios di cinecittà c'è un museo e ci sono dei tour credo ci sono i set allestiti una cosa bella molto bella è proprio esattamente la magia del cinema perché tu entri decadente non so se adesso l'hanno un po sistemato perché oltre sono andata si percepiva un po la decadenza però dipende quanto sono stati vissuti potete passare dalla da pompei alle strade di new york passando per la roma antica tornando e uscendo potete salutare nonno libero che vi fa ciao ciao dalla casa di un medico in famiglia e proprio da quelle parti tra l'altro è molto divertente questa cosa si è svolto allo spring attitude esattamente su nello spazio nello spazio subito dopo l'ingresso principale spazio molto grande molto largo iniziamo con i punti di forza molto largo con due palchi il molinari stage e il spring attitude stage uno accanto all'altro e questo permetteva a puoi stare anche come sono stato io attaccato alla transegna del mixer e ti sei goduto una veramente dalle 4 e 55 fino a fine set fino alle quattro di musica musica e in un colpo solo e anche con un biglietto solo in una serata sola una gran bella fetta di dei migliori artisti artiste in circolazione appunto ascoltato cosmo prima abbiamo sentito marco castello con il calibro 35 marco castello ha suonato allo spring attitude proprio nella giornata di di venerdì sentiremo daniela pes ha trasmesso abbiamo trasmesso i the blaze che hanno suonato proprio sul finia sul finale non sono stati gli ultimi ho detto una cosa sbagliata prima non sono stati gli ultimi della jersey hanno chiuso le le porte ma prima hanno ha suonato mace fatto un dj set veramente interessante questa era soltanto la prima giornata poi il sabato il giorno dopo insieme mi hanno raccontato non ci sono stato perché non non potevo partecipare ma c'è stata una giornata esatto veramente molto coriacea perché emanolde nome già trasmesso e già conosciuto da queste parti i viagra boys amatissimi hanno letteralmente spaccato il palco white mary subito dopo i viagra boys ma appunto è motta con un set tra l'altro appunto la dividere in parti uguali il lo spazio dello spring attitude la scletta dello spring attitude permetteva al pubblico di vedere tante tanti set tante performance trante tante esibizioni comodamente ma loro gli artisti e le artiste avevano un'ora di tempo per mettere veramente la ciliegina sul lungo tour estivo che finisce come nel caso di di cosmo proprio con una formula agile agilissima sta lì si guarda due palchi con un ritmo abbastanza serrato di esibizioni quindi non perdite di tempo e credo che abbia funzionato anche abbastanza era la prima serata in cui faceva veramente freddo a roma aveva piovuto una varietà di vestiario così interessante era uscita pensando che fosse ancora agosto e si è ritrovata a schiantarsi di freddo ma comunque carino non 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 stupisce il fatto che il full pass il biglietto unico il primo e secondo giorno è andato sold out molto 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 presto hanno aggiunto una data di chiusura il la domenica ma che era un progetto un pochino diverso con nasca headliner punti negativi punti negativi allora innanzitutto il contesto meteorologico faceva veramente la colpa di non era colpa di nessuno però appunto condizionati dalla anche dalla città che ospita questo posto arrivare alla venue del concetto dopo un'ora e mezza di macchina io in un'ora e mezza ci arrivò a firenze se prendo mi conviene andare con la metro forse esatto ecco a proposito di tutto e politica quanto può essere straordinario arrivare anche usufruire di zone di concerti come nel resto del mondo banalmente dove tu puoi arrivare andare e tornare con la metropolitana soltanto che una cosa incredibile appunto ne sto parlando in radio come una un'eccezionalità una anche perché i concerti in questo caso cominciano alle 5 ora alle 5 17 si tenete conto che è vero venerdì può essere un giorno ancora lavorativo ma in alcuni paesi del mondo molti l'orario lavorativo finisce più o meno verso le 5 nei paesi civili e invece no ma che senza scomodare il welfare cominciando un giorno di permesso delle ore di permesso se vuoi proprio aprire il giorno di permesso è un privilegio quindi non tutti possono farlo è ok però diciamo che potersi potersi spostare con i mezzi sarebbe in questo caso molto molto semplice e civile speriamo di arrivarci prima o poi credo almeno per quanto riguarda la città di roma che dovremmo superare questo giubileo del 2025 indenni sperando di sopravvivere e comunque in generale una bella occasione per ascoltare musica interessante e in una diciamo location in una cornice cornice dico queste cose sembro il tg2 e accettabile e insomma interessante altri punti di forza dello spring gattito sono stati ciò che era il contorno molto spesso anche da queste parti non i token credo è andata bene quasi una via di mezzo era completamente cashless il il festival ovvero potevi caricare su una sul braccialetto un piccolo una piccola una piccola grande somma di denaro a seconda delle tue esigenze sì c'era anche la possibilità di caricare in loco la il braccialetto però appunto serviva un iban era qualcosa da da presi da sistemare da preparare una cortezza in più e sì i prezzi sono sicuramente prezzi da concerto quindi una bottiglietta d'acqua costava sicuramente di più del normale per non parlare di una birra 6 euro però sono riuscito a mangiare anche una frittura di pesce però scegli delle cose veramente improbabili ero veramente amaliato dal dalla possibilità di vedere di mangiare all'interno mentre ascoltavo il il dj set tra l'altro di beric and stream che avevo appena scoperto mangiare della fritturina alle spalle della succitata mamma mia quanto tu mangio privilegio del medico in famiglia che era veramente lì arrivano dei messaggi al 351 52 41 101 silvia dice che forse è stato un po poco pubblicizzato perché si è accorta che c'era qualcosa solo vedendo la fila fuori dagli studios pur abitando praticamente da quelle parti e invece fabrizio a proposito di opere pubbliche dice lascia stare giovanni a parma dovrebbero rifare lo stadio lo rifaranno in centro in una zona super congestionata in centro a parma cioè parma è un buco fisicamente salutiamo parma no nel senso che è un gioiellino ma è molto piccolo lo stadio al centro devo dire che qua poi c'è di mezzo il discorso dello stadio della roma quindi non lo aprirei questo non ne so più no neanch'io però so che deve essere abbastanza vicino alla nostra zona io sono sempre un po preoccupata su questo ma tanto con i tempi che ci saranno forse faccio in tempo tempo a traslocare sì e va bene parleremo con la nostra ospite tra un po anche di questo anche di welfare e politiche della gestione della città a proposito di gestione della città molto interessante appunto come contorno l'attivismo presente le realtà di attivismo presenti allo spring gattito lo scoprite anche andando a guardare la foto che ho pubblicato su instagram riguardo alla diretta di oggi perché tra le varie realtà presenti allo spring gattito c'era anche donne per strada che ho accalappiato e non è proprio il termine giusto da definire scoperta grazie al format del cicoria che possiamo dirgli qualsiasi cosa ci sta antipatico ci fa ridere è cringe è un genio è un mostro è bravo è cattivo però io lo tengo sempre presente come punto di vista prezioso e grazie a lui grazie al progetto al podcast che che porta su youtube mestieri impossibili vado a memoria ho scoperto ho ritrovato donne per strada che le ho ritrovate nello stand accanto a greenpeace e che donne per strada si occupa di accompagnare le ragazze le persone che le persone che tornando a casa da sole hanno si sentono poco poco sicure non hanno non vogliono stare da sole al ritorno da casa e donne per strada banalmente offre la possibilità di videochiamare attraverso instagram se non sbaglio la pagina instagram ma ci sono novità in arrivo e spero di comunque lo avete tutto su donne per strada dove il perl è una x punto org insomma non siete da soli e da sole per strada perché c'è donne per strada è una realtà veramente molto interessante ripeto vorremmo molto presto parlarne qui spring attitudine è stata l'occasione per incontrarci ed è molto interessante che un'occasione del genere un luogo di festa appunto l'ultima festa di cosmo tra l'altro l'ultima l'ultimo data del tour quindi dopo parliamo anche brevemente di del set di cosmo però l'ode a spring attitude che ha costruito in questo modo in una maniera anche piuttosto accessibile certo era comunque come ha detto flavia un una serata da tenere da prepararsi da tenere non è proprio alla portata di tutti e tutte però un ottimo un ottimo modello da tenere presente per creare spettacoli nella città di roma e non solo l'ultima festa di cosmo è il brano che abbiamo sentito l'ultima data del tour di cosmo è stato appunto la l'esibizione allo spring attitude di roma del 13 settembre cosmo ha fatto un oltre a essere in forma smagliante veramente un figo atomico ma soprattutto una tenuta del palco fuori dalla dagli standard dal normale era il tour che è passato alla cronaca quindi con tutte le riduzioni del caso è il tour quello che dove cosmo chiedeva di non registrare il set di godersi il momento in questo caso non ha potuto far apporre il proverbiale bollino sopra le sopra i cellulari cosa che ha fatto invece nei suoi concerti suoi e basta ha però posto l'attenzione su questo su questo argomento anche grazie alle grafiche che in continuazione lo spring attitude mandava cioè godetevi il momento non sta mollato il telefono mettete lo in tasca c'è stato questo momento di psicomagia perché proprio quando il il brano lo permetteva ha fermato il set detto beh vi vedo togliete quel cellulare tirate su mettetelo in tasca facciamo un esperimento facciamo un un gioco facciamo appunto una psicomagia il tutto il festival si è ghiacciato si è fermato si è concentrato il telefono era nella tasca e poi sono esplosi con il finale di questa canzone veramente 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 notevole l'effetto di divertimento ha investito il 100 per cento della di storia di cinecittà è stato veramente molto impressionante il di la differenza da prima e dopo aver messo il telefono in tasca quindi lode a lui che ha posto l'attenzione su questo tema e anche su altri tipo la criminalizzazione dell'attivismo cosa proprio fresca fresca di legislazione ma intanto il l'esplosione è arrivata proprio su questo momento con tutto cinecittà che saltava e forse qualche palazzo intorno ha sentito delle vibrazioni motivo e motore della mia visita allo spring gratitude lo devo dire non ho nessun problema a ammetterlo è l'esibizione finalmente ho visto dal vivo daniela pes quanto vi ho rotto le scatole con daniela pesce in questa trasmissione troppo poco ciao 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 ciao